Questo, guarda, è cresciuto. È cresciuto, che cosa? Rosmarino. Il rosmarino, che profumo del rosmarino. Sì, ci piace molto. A me piace tantissimo il rosmarino. Allora, come? Anche la vostra mamma e il vostro papà lo usano il rosmarino? Sì. Quando lo usano? Quando devono fare qualcosa di buono con lo rosmarino. Cioè che cosa? La pasta, va bene. La pasta, sì. Lo sai che la mia mamma, quando raccoglie la salvia, la usa per la pasta. È vero. Mia nonna usa sempre il rosmarino. Sì, rosmarino? Vieni a tagliare com'è. Guarda, ha fatto così. Mia nonna, guarda, è molto contenta. Mi ha sentito neanche il profumo. Anche io. Ma io ho un profumo buonissimo. Perché è buono, Martina? Perché è buono? Perché è rosmarino. Ma non è rosmarino questo, lo sai? È un'altra erba aromatica, non è rosmarino. Allora, che cos'è? Senti il profumo. Che cosa ti fa ricordare? Sì. Cosa ti sembra questo profumo? Perché è un profumo buono, piacevole? È una bella piazza. Io metto. È proprio una bella piazza questa focaccia. Vediamo un po'. Vero, verissimo. Adesso la facciamo diventare una pallina? Sì. Proviamo. Pallina con questa pasta? No, io no. Pallina! Ah, lei che l'ha fatta il nostro amico Marco. Bravo, 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 Marco. Bravissimo. No. Sì, sì, sì. È vero, guarda. Non c'è più la piazza. È diventata una pallina di pane. Guarda. Una pallina di pasta. Anche questa. Anche questa. Bellissimo. Adesso la mettiamo a levitare. Con un panno pulito usiamo dei suoi valori di carta pulizia. Guarda che ci sono andate. Non c'è. Questa esperienza la mandiamo in Europa, eh? Lo sapete? In Europa la mandiamo. Cosa? Farà un viaggio lungo lungo. Sì, ma ci vuole soltanto giocare. Vuole solo giocare. Aprite bene la pasta. Aprite bene la pasta. Vuole solo giocare? Ho le mani tutte di olio. Guarda un pochino. Sì, però... Quando fanno di alana?